Domani, giovedì 5 gennaio alle ore 15 al Marco Tomaselli, Nisse e Licata daranno vita ad un allenamento conciunto tra le due squadre, amiche e gemellate. Sarà un test in vista della ripresa del campionato di domenica prossima dove la squadra biancoscudata ospiterà al Tomaselli nella prima giornata del girone di ritorno il Casteldaccia nel campionato di eccellenza, mentre il Licata sarà ospite del Castrovillari nella prima giornata del girone di ritorno di Serie D. Nisse molto attiva anche in fase di mercato, dove nei giorni scorsi ha rafforzato l'organico di mister Alessio Sferrazza con il difensore Pietro Benivegna e l'attaccante Giuliano Guadagnoli, che sostituiscono i due partenti argentini, Hernandez e Tortiz. In più, nelle ultime ore è stato anche annunciato l'arrivo del centrocambista Amedeo Ottaviano, classe 2005 proveniente dalla Master Pro di San Cataldo, dove è stato protagonista nella prima parte della stagione nel campionato di prima categoria. Domenica al Tomaselli si prevede una grossa affluenza di spettatori, data anche della presenza delle scuole calcio di Caltanissetta, che hanno stretto un patto di sinergia con il club biancoscudato. E in tribuna si aspetta anche l'arrivo dell'imprenditore Luca Giovannone.